Bentornato in saletta, sei pronto? Siamo al quarto episodio della serie Ritmo di Zero. Bentornato in saletta, benvenuto se è il primo video che guardi di questa serie Il Ritmo da Zero. Prima di iniziare voglio ricordarti, se ti va, di iscriverti al canale YouTube e di dare anche un occhio alla pagina Instagram La Vita in Saletta. Comunque la cosa che mi preme di più è sapere che cosa ne pensi di questi video. Fammi sapere con un commento o con un messaggio anche in privato se questi video ti stanno aiutando ad imparare a suonare. Pronto per la sigla? Nelle puntate precedenti hai visto che sul famoso click, uno, due, tre, quattro, click, 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 che possiamo chiamare anche pulsazione. Quindi impara anche questi nuovi termini che poi esprimono sempre lo stesso concetto. Il click può anche essere definito come pulsazione e che cosa fa? Questo demarca la velocità a cui noi stiamo suonando. Quindi tra un click e l'altro noi abbiamo un'idea della velocità a cui dobbiamo suonare. Abbiamo visto che su ogni click possiamo suonare un colpo One, two, three, four, che chiamiamo con i numeri. Quindi one, two, three, four, uno, due, tre, quattro. Quando abbiamo suonato questi due colpi l'abbiamo fatto in maniera piuttosto lineare seguendo quello che si chiama andamento binario. Quindi un andamento molto a scatti, no? In questo senso. One, two, and, three, and, four, and One, two, and, three, and, four, and Oggi introduciamo un altro concetto e andiamo a vedere come possiamo suonare tre colpi sempre su ogni click. I tre colpi che noi andremo a suonare avranno un andamento di questo tipo Uno, due, tre, uno, due, tre Uno, due, tre, uno, due, tre One, two, three, one, two, three Quindi tre colpi su ogni click Uno, due, tre Uno, due, tre Uno, due, tre Uno, due, tre Uno, and, da Two, and, da Three, and, da Four, and, da Fai molta attenzione perché noi potremmo suonare questi tre colpi all'interno sempre di ciascuna pulsazione Con una cadenza differente, con una cadenza che è come quella che abbiamo visto quando abbiamo suonato due colpi Ossia una cadenza binaria Per il momento fermati a questa informazione Quindi sappi che l'esercizio che andremo a vedere nello specifico in questa puntata È proprio attinente a tre colpi suonati con un andamento ternario Hai sicuramente fatto caso prima, quando ti ho fatto sentire questi tre colpi con andamento ternario Al movimento della mia mano Che era un andamento oscillatorio L'andamento ternario è tipico dello swing Che è una branca del genere più ampio del jazz Che si poggia tutto su un andamento ternario appunto In effetti la parola swing in inglese significa altalena To swing, il verbo, significa dondolare, oscillare Quindi per farti comprendere meglio Immagina di essere su un'altalena E di suonare questi tre colpi ogni volta che cambi direzione Anche qui noi chiameremo i colpi utilizzando il numero di ciascun beat Quindi one, two, three, four Ovviamente per il primo dei tre colpi Gli altri due li chiameremo sempre in maniera convenzionale Se ancora non sono stato chiaro ti aiuto ulteriormente mettendoti questa immagine qua One and a, two and a, three and a, four and a Uno, due, tre Uno, due, tre Uno, due, tre Uno, due, tre Andamento ternario abbiamo detto andamento oscillatorio Arrivati a questo punto Quello che ci interessa è utilizzare questo andamento ternario Per accompagnare un brano musicale Quello che abbiamo fatto sempre fino adesso E prima di procedere ti spiego velocemente questa cosa Dobbiamo fare esattamente quello che abbiamo fatto negli episodi precedenti L'accompagnamento sarà dato sempre con una mano Io sono destro quindi te la faccio vedere con la mia mano destra Per quanto riguarda la mano sinistra avviene esattamente quello che è sempre avvenuto dal primo episodio di Ritmo da Zero fino adesso Andrà a suonare il back beat su due e su quattro La stessa cosa potrei fare chiamando i colpi in maniera differente come abbiamo anche già visto In questo modo Sola, enda, insieme, enda Sola, enda, insieme, enda Sola, enda, insieme, enda Sola, enda, insieme, enda prima perdonami però fammi bere un goccio d'acqua perché siamo in piena estate questo video è registrato oggi che è domenica 1 agosto e io sto sudando come un pentito a un processo di mafia devo mettere anche le cuffie da pilota aereo altrimenti non riesco a sentire la base quindi ad aiutarti nell'accompagnamento allora 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, sola insieme, sola insieme, sola insieme, uno. Ricordi un'amica! Everybody hurts I love you